E' iniziata la protesta contro la buona scuola del governo Renzi. Gli alunni del liceo scientifico Trelli di Fanno stanno componendo davanti la porta una barricata fatta di libri. Hanno manifestato così i ragazzi la loro adesione allo sciopero generale contro il disegno di legge sulla scuola. Nonostante sia presto siete in pochi questa mattina? Sì perché a causa dello sciopero degli insegnanti molti professori non sono venuti a scuola quindi il preside ha dovuto mandare i ragazzi a casa. Che cosa state realizzando? Stiamo costruendo un muro con dei libri come a simboleggiare un muro contro i tagli all'istruzione e queste nuove modifiche di legge fatte dalla buona scuola e in questo modo vogliamo dimostrare il nostro supporto ai professori che scioperano questo giorno. Che cosa ne pensate di questa riforma? Allora personalmente penso che il governo Renzi dia decisamente troppi finanziamenti alle scuole private. Già siamo sui 500 milioni a cui si aggiungono altri 100 milioni di isgravi fiscali. Questo è il vostro simbolo della protesta? Che cosa sta a simboleggiare? Sta a simboleggiare comunque il muro della cultura, il fatto che gli studenti soppongono a questa riforma che diciamo che appoggia più delle logiche di stampo aziendale anche se personalmente penso che sia più un problema dei professori rispetto che degli studenti. Personalmente mi urta questo fatto degli isgravi fiscali per chi frequenta le scuole private che si traducono in 100 milioni in meno di gettito per lo Stato oltre già i 500 milioni che danno già le private quindi capisco che si possa pensare che dopo ci possano essere più favoritismi però francamente è una cosa che non sento molto. Il dirigente scolastico Samuele Giombi ci ha fornito invece i dati sulle presenze dei docenti e degli alunni. L'80% dei professori era in classe e questa mattina assente invece il 40% degli studenti. Non possiamo sostituire personale che sciopera ma slittare all'interno della mattinata con il personale presente e quindi siamo riusciti a rimanere ancora in istituto per alcune ore di lezione circa la metà delle classi anzi il 60-70% delle classi le altre le abbiamo dimesse immediatamente.